Adesso stai attento a Federico qui con gli occhi perché ci tengo veramente. Io qui ho un pazzo di cartie tutto diverso, giusto? Va bene, è normalissimo, ok? Io ti chiedo, Federico per la prima volta, conosci la carta da giorno, sì? Ok, da lasso a me, uno, due, tre, 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 uno, due, tre. Quello che vuoi? Non mi l'intendo, K di cuori. Aspetta, K di cuori, ok. Adesso, dammi un numero, un numero che è in mente, tre. Ma che più grande? Fala che più grande, o tre, come mi puoi? Qui c'è un numero che è il numero sette, e quindi tre, sette più tre, quanto fa, signori, insieme, quanto fa? Dieci. Io ho lasciato una carta apposta, Federico, e nella tua mi intendo fuori il numero tre. Senti, tu presta, dice, se, cogliendo dieci carte, ci fosse il re di cuori, ti piacerebbe? Ma questo? Tu stesso, in un numero tre, tu ogni dieci carte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otte, nove, e fine. Grazie a tutti, è emozionato, un applauso profissimo, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, grazie.